prossimo video vi parlerò delle borse morbide della rinovalk ve le faccio vedere così velocemente vi dico che per montarle ragazzi sono di una semplicità insomma ci vogliono quando ci vogliono marco 45 ore una laurea in ingegneria meccanica ecco non ve lo faccio vedere perché non vuole essere visto il mio amichetto marco ti fai vedere ti fai vedere lui ha i capelli distrutti io non ce l'ho per niente quindi stavo dicendo che rivolano mi sono volati stavo dicendo prossimo video magari vi parlerò di queste borse morbide della rinovalk le ho ricevute come regalo un bel buono regalo e quindi ho deciso di comprarle e installarle e poi vi faccio vedere un po come funzionano vi dico un po vi racconto come mi sto trovando in ando sono montate le sto testando in questo giro ci troviamo a montalbano e l'icona in sicilia e tra poco andiamo a vedere lo stone age siciliano ecco lui e marco forse ve lo ricordate in un precedente video quando abbiamo provato per la prima volta la moto morini e la da quella parte ora ve lo inquadro c'è l'altro collega con la voce valico 5 25 vingenzo che saluta vingenzo che saluta ciao ragazzi buongiorno avanti noi facciamo una piccola pausa e poi si riparte un abbraccione a presto